Sergio Indrigo, mio padre, artista per caso. Sulle tracce di Boris Faraguna ho deciso di scrivere la biografia di mio padre circa tre anni fa. Non credevo che ne sarei stata capace e ci ho pensato su tantissimo senza mai trovare la forza di iniziare. Volevo farlo, dovevo farlo e non solo per un'esigenza personale. Di Sergio Indrigo della sua vita si sa ancora troppo poco. La sua arte, la sua poesia, la sua musica devono ancora trovare il giusto spazio per essere ricordato. Ho perso grandi immensi affetti, mia madre quando era troppo giovane e anche le mie nonne e poi alla fine mio padre prima di riuscire a farmi raccontare tutto quello che avrei voluto delle loro vite prima che io nascessi. Per esempio mi sarebbe piaciuto sapere da mia nonna Claudia come quando aveva conosciuto suo marito Romeo, quanto aveva sofferto nel 1947 quando era stata costretta a lasciare la sua città natia Pola. E mio padre come era da piccolo? Avrei voluto saperlo da lei o anche direttamente da lui? Certo queste domande avrei dovuto pormele e porle prima che non... ma non voglio lasciare spazio ai rimpianti. Avevo anche bisogno di ripercorrere la mia vita attraverso la vita di mio padre. Per questo era necessario immergermi nei ricordi, nelle testimonianze, nei racconti di quanti lo hanno conosciuto. Un viaggio a volte doloroso, a volte bellissimo. Quando la scorsa estate sono tornata a Pantelleria dopo oltre 40 anni è stato molto emozionante perché mi è sembrato di rivedere papà in quel mare dove era stato felice e spensierato. Quel mare che era il nostro elemento naturale ma è stato doloroso ripercorrere i momenti bui che ho che abbiamo attraversato. La malattia e la morte di mia madre, il grave problema di udito di papà, le difficoltà finanziarie, la depressione. Amavo mio padre, anzi lo amo e lo amerò sempre, ma questo non significa che non ne vedessi difetti. Chi di noi non ne ha? E se c'è una cosa che proprio detesto e anche a lui non sarebbe piaciuta è la santificazione dei defunti. No, sentivo che la sua storia ha voluto raccontarla solo a patto di non usare filtri. Aveva cominciato a scriverla lui stesso tanti anni fa. Il diario di Boris Faraguna l'aveva intitolato, ma poi un po' per problemi alla vista, un po' per una grave forma di incompatibilità col computer, non l'aveva finita. Mi sembra ancora di sentire le sue imprecazioni quando inavvertitamente premeva un tasto e gli scompariva tutto dallo schermo. Povero papà. Da quelle pagine comunque ho preso qualche spunto, perché sono importantissime per ricostruire la sua infanzia a Pola. Mio padre era davvero un uomo per bene. Questo viaggio nella sua vita me l'ha confermato ancora una volta. E la conferma continua ad arriviarmi delle nuvereboli dimostrazioni di stima e affetto, che ricevo praticamente ogni giorno attraverso i social, sia da chi lo conosce solo attraverso la sua musica, sia da chi l'ho conosciuto di persona. Confesso però che la piena consapevolezza della sua statura artistica l'ho raggiunta solo dopo la sua morte, una scoperta che mi ha fatto molto male. È incredibile quanto poco io conoscessi della sua produzione. All'apice della sua carriera era infatti ancora una bambina, e in fondo per lui, per me, era solo mio padre, un papà come gli altri, non Sergio Endrigo, cantatore, musicista, poeta. In questo viaggio sono stata aiutata con entusiasmo e affetto da tanti musicisti e amici che hanno condiviso con lui una parte della loro vita artistica. Quello che ho messo insieme è insomma un racconto corale. Spesso mi sono commossa perché chiunque contattasse era felice ed emozionato di partecipare al ricordo di mio padre. Questa biografia non è quindi la mia verità sulla vita di Sergio Endrigo, ma la verità è la traccia che lui ha lasciato nelle vite di chi gli ha voluto bene. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che con loro preziosi testimonianze mi hanno aiutato a ricostruire tassello dopo tassello la vita di papà. Senza di loro non avrei potuto scrivere questo libro. Non so se la mia scelta sia stata coraggiosa, presuntosa o rischiosa. Questo lo giudicherete voi amici dopo averlo letto. Buona lettura a tutti.